Buongiorno a tutti, sono Ander Stanzani, Enrico Selleghini, Matteo Lerario, Nicola Milani, Alessio Guerra, ho appena discusso la mia tesi triennale, è tratta di modelli digitali e l'ottimizzazione dei modelli ricavati da dati da sensore attivi e passivi, mauletto di serbatoio per una moto, la valorizzazione dei beni culturali per quanto riguarda il teatro comunale di Bologna, l'analisi dei dati per la creazione di nuovi strumenti di allenamento, un progetto inerente alle calzature, la mia intenzione è quella di contattare un'azienda per riuscire a implementare questo progetto e renderlo il meglio possibile. L'attività di tirocinio è stata molto interessante, però sono cittilabili Ravenna che mi ha appunto introdotto a questi temi specifici. Nel corso dei tre anni ho preso diverse tecniche progettuali che mi hanno aiutato molto nell'effettuare questa tesi che riguardava anche una passione, ovvero quella per lo sport. Ciao! 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 !